L'ogni probabilità sarà Mattarella il nuovo Presidente della Repubblica e il vostro giudizio? Guardi, l'ogni probabilità io la escluderei, nel senso che anche l'altra volta, quando poi alla fine è stato eletto napolitano, c'era la tranquillità di votare Marini e poi alla fine abbiamo visto che è venuto fuori di tutto in quelle tornate di votazioni. Quindi direi che è prudente attendere la fine, però è anche prudente dire che questo candidato viene espresso da una maggioranza che sta letteralmente massacrando l'autonomia con la modifica del titolo quinto. Quindi se tanto mi dà tanto, noi non possiamo sostenere un candidato che è espressione da maggioranza, che è contro l'autonomia e contro il federalismo.